Sempre figurativo, però a questo punto passiamo ai visi, ai personaggi, iniziando da Nicola Soriani che è una sua interpretazione molto particolare. Intanto io ho visto di Nicola opere fatte quasi in modo imperialista di donne, estremamente belle, poi abbiamo scelto, abbiamo deciso di optare per qualcosa di più colorato, di più vivido e qui è proprio un messaggio, perché è un messaggio anche della situazione della donna, della situazione femminile, della situazione delle persone, anche nel contesto della società. Quindi questo è un messaggio molto importante per noi donne e per chi ci coinvolge da vicino, ma è importante anche per i signori maschietti, magari che dovrebbero avere un po' di attenzione. Francesca Molinari. Scusi per esempio.